Buongiorno, sono Francesco Ambrogio e sono il responsabile qualità e sicurezza alimentare del casificio pugliese, fratelli radici SPA. Le principali attività svolte dall'azienda sono la trasformazione di latte, vaccino e caprino in prodotti lattiero caseari, quindi formaggi e ricotta. L'azienda è stata spinta a partecipare volentieri al progetto Go & Learn per la possibilità di confrontarsi con le esigenze del territorio e di poter dare una mano concreta alle problematiche che possono presentarsi nel tessuto sociale delle nostre zone, della nostra regione, del nostro territorio. Sicuramente i punti di forza di questo progetto sono legati alla possibilità di dare un aiuto concreto e uno supporto concreto ai ragazzi, dando la possibilità di conoscere quelle che sono le attività industriali, nel nostro caso le attività della trasformazione alimentare, anche andando oltre quello che è il semplice prodotto che puoi vedere sul banco di un supermercato, quindi riuscire a vedere che cosa c'è veramente dietro. Mi chiamo Rosa Marco, ho 29 anni, sto frequentando il corso di collaboratore di cucina presso ENAI Piemonte di Settimo Torinese, seguiamo il progetto Go & Learn e ci troviamo in Casa Radici. È stata un'esperienza formativa molto interessante, abbiamo visto e imparato i processi di formazione dalla materia prima fino al prodotto finito, dalle mozzarella ai formaggi freschi, ai formaggi stagionati, è stato sicuramente interessante. Penso di aver imparato a non sottovalutare quando andrò nei supermercati a comprare una mozzarella, a vedere di quale stabilimento è. A presto!